Sei fili incoscienti. Qual è la ricetta per vivere meglio? Guida. La ricetta non è quella di non avere dolori, di non avere difficoltà, di non avere contrasti, di avere poco denaro e via ma di affrontare ognuna di queste situazioni come necessaria da cui si può avanzare perché ciò che vivete comunque dovete viverlo e non soltanto perché rientra nel vostro destino ma anche perché rientra nel disegno divino e voi fate parte del disegno divino e nonostante il vostro supposto libero arbitrio dovete affrontare tutto ciò che rientra nel disegno divino altrimenti non riuscirete ad avanzare, non riuscirete a poco a poco a osservare il disegno dall'alto invece di essere i fili incoscienti del disegno. Grazie. 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 Grazie.